Orfano di madre, morta in un grave incidente stradale poco prima dell'inizio della pandemia, ha superato il dolore con un atto di grande solidarietà. Durante il periodo buio dell'emergenza Covid si è messo a disposizione dei suoi compagni di classe, aiutandoli a risolvere le difficoltà legate alla didattica a distanza. Un gesto premiato nel 2021 dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che lo ha nominato al Fire della Repubblica. È la storia di Angelo De Masi, studente e diplomatosi lo scorso anno all'Istituto Alberghiero di Trani, la città che adesso ha voluto ringraziarlo donandogli un personal computer. Glielo ha consegnato questa mattina il sindaco Amedeo Bottaro nel corso di una cerimonia organizzata al Comune, un segno tangibile della riconoscenza dell'amministrazione per la generosità dimostrata dal ragazzo, che continua a prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli per compensare l'assenza della mamma. In quei momenti diciamo o crolli oppure ti rialzi da solo. Io per il bene dei miei fratelli, di mio padre, della mia famiglia, anche delle persone che avevo intorno, avevo il dovere di rialzare. Sono molto contento, al di là dell'oggetto, ma il gesto da parte del sindaco e dell'assistenza comunale. Sono molto contento. Nel marzo scorso lo studente era già stato ricevuto dal sindaco che lo aveva invitato a Palazzo di Città ringraziandolo personalmente per la sua generosità. Lo ha fatto anche oggi regalandogli uno strumento indispensabile come il computer e a lungo desiderato da ragazzo. I bei gesti, le azioni a cui purtroppo non siamo più abituati vanno evidenziati, vanno esaltati, vanno anche premiati per far comprendere effettivamente il giusto valore di questi comportamenti soprattutto quando poi vengono posti in essere da un ragazzo così giovane.